L'abbiamo detto dall'inizio partita, palla nei piedi a questi giocatori che anche in una serata no, però riescono a sbloccarsi, riescono a trovare la giocata vincente. Insigne ha fatto la giocata vincente al novantesimo dopo una partita onestamente opaca, però quando il giocatore è forte, anche all'ultimo minuto, anche se non ha fatto una grande partita, eccolo qua, che esce fuori e il gol praticamente è suo. Ha saltato secco Hunter, se novanti li si è fatti trovare nel posto giusto al momento giusto, è bastata una giocata a Insigne, 1-1.